ASCOLTA Non sto dicendo che è colpa di mia madre se siamo in questa situazione. Forse sì. Ricominciamo da capo. Ragazzi, due ninja li hanno portati via. Bentrovata, Matilda. Jean-Paul vuole rimettere insieme la banda. Tesoro, tu li conosci? Ma perché dovrebbero rapirli? Guarda, è la collana di mamma. La indossa sempre e non la toglie mai. Forse mamma ci vuole dire qualcosa. Guarda, è lo stesso simbolo. Chi abita lì potrebbe aiutarci a trovarli. Che ci fai qui? Chi è quello? Il suo ragazzo. Cosa sta succedendo? Vendevamo sul mercato nero. Siamo entrati in quel programma per scappare da Jean-Paul. Era rischioso e illegale. È stata colpa mia. E finimmo nella rete di Jean-Paul Doviz. Jean-Paul Doviz? Jean-Paul Doviz. Jean-Paul Zizou. Benino. Sto dicendo quello che dici tu. Più o meno. Dove siamo? Accesso autorizzato. Oh, sì. Non credo che vostra madre fosse una normale ladra. Basta toccare cose. Andiamo. Oh, a che serve questo qui? Modalità predatore attivata. Io coprirò il segnale. Voi due prenderete la corona. Saremo pari. Lascerete in pace la mia famiglia. Vengo con te. Con te, Contessa Vanderholt. Lui è il nostro segretario, Susan. Sì. Sono la guardia del corpo. Le mie mani sono armime, mia tua assa. Sicurezza. Se sto bene. Vuole che la troviamo. Ti ha lasciato una marea di indici. E adesso come entriamo? Lo farò io. Ops. È l'occasione per fare gli eroi. Salviamo i miei genitori. Oh, mamma. Oh, no. Non credo sia colpa nostra. Io penso di sì, invece. Siamo stati noi. Gli scriviamo un biglietto o lo faremo. Qualunque cosa ci sia, ci porterò dai miei. Sicura? Oppure è la parte in cui quattro audaci ragazzi si catapultano verso l'ignoto spaventoso e oscuro? Ora i bambini stanno entrando. Non la voglio, questa avventura. Quattro audaci